L'unica zona rossa in Italia è l'Abruzzo. Si è realizzato quanto si temeva. Fino al 10 dicembre tutte le super restrizioni rimangono in vigore, da Martinsicuro a San Salvo. L'Abruzzo è zona rossa dall'ordinanza regionale del 18 novembre, confermata dal ministro Speranza il 22. Dal report settimanale di venerdì 27 novembre è iniziato il conteggio delle due settimane che, secondo le normative, sono necessari a raccogliere i dati in base ai quali le regioni possono cambiare colore. Ed è per questo che siamo ancora in zona rossa. Alcuni quindi incolpano il governatore Marsilio di essersi fatto male i calcoli, ma dopotutto se questo avesse atteso la decisione del ministero, ad oggi la situazione sarebbe la medesima. E il fatto che l'Abruzzo sia l'unica zona rossa d'Italia lascerebbe presupporre che qui la situazione sia più grave che altrove, ma i numeri sembrerebbero smontare questa teoria. La percentuale dei positivi rispetto ai test e il numero di decessi sono in linea con la media nazionale e l'indice di contagiosità ART è al di sotto di molte altre regioni. In Abruzzo ora è a 0,9, mentre nel vicino Molise, che è zona gialla, è a 1,37. E anche la percentuale dei posti letto occupati in terapia intensiva sembrerebbe essere in linea con la media nazionale, attestandosi sotto il 50%. La situazione però era diversa a metà novembre, quando l'incidenza dei contagi era comunque simile al resto d'Italia, ma non l'efficienza del sistema sanitario. Tra i 21 parametri in base ai quali si determina il colore delle zone, in Abruzzo pesarono quelli riguardanti la capacità di offrire assistenza ai malati. Tra mancanza di posti letto e di personale, il timore era quello di un collasso degli ospedali abruzzesi. Risultato di un'estate persa a rincorrere polemiche e becere, mentre le diverse istituzioni si scaricavano l'un l'altra alle responsabilità. Responsabilità che ora commercianti, associazioni di categoria, sindacati e opposizioni addossano tutte a Marsilio. Ma Marsilio è ancora fiducioso di poter salvare i consumi della festa dell'Immacolata, riponendo la speranza in speranza, è il caso di dirlo. Ha ottenuto la promessa dal ministro, ha detto il governatore, che lunedì sarà riesaminata la questione abruzzese e quindi le riaperture potrebbero essere anticipate.